Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondo alle vostre domande. Se vuoi anche tu che rispondo alle tue, si invita al canale, metti un like e lascia un commentino qui sotto con le tue domande. Oggi risponderemo a come togliere le macchie di vino, vecchie e nuove. Allora, se sono nuove, la cosa migliore è metterci subito su il sale grosso, in modo tale che si andrà ad assorbire la macchia. Potete anche lasciarla agire qualche minuto, anche 20 minuti, e poi sciacquate con l'acqua fredda. Mentre, se le macchie sono vecchie, potete versarci su del succo di limone e mischiato a un po' di sapone liquido. Lasciare agire anche lì per una ventina di minuti, sciacquare e al massimo ripetere. E fatemi sapere se ha funzionato. Ciao!